Come potete vedere attraverso quest'airdrop che ho portato all'interno del canale qui sono riuscito a ricevere 322 token per un profitto totale di 124 dollari che sono andato a convertire e all'interno di quest'altro account di Bitiget sono riuscito a ricevere altri 400 token. Ragazzi tutto in modo completamente gratuito, ho realizzato un video all'interno del canale dove vi parlavo di quest'airdrop, l'airdrop è stato lanciato e sono riuscito a guadagnare dei soldi. Che ho convertito all'interno del mio portafoglio in USDT e quindi se vuoi scoprire un nuovo airdrop che sto portando all'interno del canale che è proprio questo airdrop che scoprirai all'interno di questo video che potrà permetterti di guadagnare delle crypto in modo completamente gratuito ti basta visionare questo video fino alla fine perché ho scoperto un nuovo progetto che sta regalando dei token gratuitamente che puoi andarti a prendere. Ovviamente ci tengo a specificare che all'interno del canale ho portato diversi airdrop, quest'airdrop che vi ho appena mostrato mi ha permesso di guadagnare ma ci sono stati anche altri airdrop che sono andato a sbloccare ma alla fine non ho guadagnato nulla. Però poiché è una cosa completamente gratuita che dobbiamo andare a fare e richiede qualche minuto conviene assolutamente seguire questo video perché non spenderai neanche un centesimo e avrai l'opportunità di guadagnare se il tutto va bene. L'airdrop di cui parleremo oggi è l'airdrop di Kat e l'airdrop di Dog. Ragazzi sono degli airdrop dei progetti legati all'applicazione di Telegram che si stanno facendo tanto riconoscere online. Abbiamo delle community pazzesche e quindi ho deciso di portarvelo all'interno del canale. Possiamo vedere che già all'interno della piattaforma di BitGet di cui vi lascio anche il link in descrizione c'è il pre-market di questa criptovaluta e già ci sono diversi milioni di volume. All'interno della loro community Telegram abbiamo la bellezza di 10 milioni di persone e per questo ragazzi molto probabilmente potrebbe riscontrare un ottimo risultato questo airdrop tutto in modo completamente gratuito. Ora vi mostrerò come ricevere questi token e possiamo vedere che all'interno del mio portafoglio di questo airdrop qui completamente gratuito ho ben 5800 token e all'interno di quest'altro airdrop ho più di 2000 token. Ragazzi guadagnati in modo completamente gratuito abbiamo anche delle community Telegram anche su quest'altro airdrop che superano i 2 milioni di utenti quindi vediamo come poter guadagnare questi token gratuitamente. Però prima di iniziare voglio parlarvi dello sponsor di questo video. Lo sponsor di questo video è l'applicazione di Bridey. Se state cercando un'app per poter andare a convertire le proprie criptovalute e spendere le proprie criptovalute con una carta prepagata ragazzi vi consiglio assolutamente di iscrivervi a quest'app vi lascio il link in descrizione. Attraverso questa applicazione oltre ad avere la possibilità di poter andare a guadagnare l'8% annuo semplicemente detenendo i propri fondi all'interno dell'app possiamo andare a spendere le nostre cripto attraverso anche un IBAN perché abbiamo la possibilità di ricevere un IBAN e collegare i nostri portafogli e quindi spenderle nel modo più semplice possibile. Se noi abbiamo guadagnato dei token attraverso quest'app possiamo andarli ad utilizzare spendendoli con una carta prepagata. Vi lascio tutti i link in descrizione grazie al quale riceverete anche un ulteriore bonus. Quindi affrettatevi il tutto è completamente gratuito e potete utilizzare l'applicazione attraverso il vostro dispositivo. Detto questo ritorniamo subito a noi. Come poter andare a guadagnare questi token gratuitamente? In parole semplici questo è un airdrop legato a dei progetti di meme coin. In questo caso l'airdrop è Cats e Dog. E l'unica cosa che bisogna fare ragazzi vi lascio il link in descrizione per poter partecipare appunto all'airdrop e iscriversi tramite un link che vi lascio in descrizione. Quindi bisogna registrarsi tramite un link affiliato. Dopodiché in base a quanto tempo andiamo ad utilizzare l'applicazione di Telegram ad esempio utilizziamo l'app di Telegram da 10 anni riusciremo a ricevere un tot di token. Tutto ciò sia per quanto riguarda l'airdrop di Dog e anche per quanto riguarda l'airdrop di Cat. Quindi l'unica cosa che bisogna fare è cliccare il link in descrizione, avviare il tutto e riceveremo questi token. Dopodiché quando sarà lanciato questo token all'interno del mercato noi andando a connettere quello che è il nostro portafoglio Ton perché il tutto è sulla rete di Ton possiamo andare a convertire quelle che sono le nostre criptovalute in USDT. Per questo vi consiglio anche di utilizzare lo sponsor di questo video. Quindi è molto molto semplice e abbiamo anche la possibilità di poter andare a guadagnare attraverso un altro metodo. Possiamo andare a guadagnare invitando quelli che sono i nostri amici. Infatti andando qui in basso ritroveremo il nostro link di affiliazione che in questo caso ve lo lascio anche in descrizione il mio e grazie se lo andate ad utilizzare. Grazie al quale possiamo andare ad invitare i nostri amici condividendo questo airdrop e guadagnare anche dei token. Possiamo vedere che queste sono tutte le persone che possiedono un determinato quantitativo di questo token. Quindi possiamo vedere che il tutto è davvero molto molto semplice. Abbiamo anche la loro community che attualmente presenta più di 10.000 persone. E vi invito a registrarvi anche al loro canale Telegram perché posteranno appunto gli aggiornamenti riguardante tutto il loro ecosistema. Secondo il mio parere questo potrebbe avere un potenziale davvero molto elevato ragazzi. Perché non parliamo del progettino sconosciuto ma qui abbiamo 10 milioni di utenti. E quindi 10 milioni di utenti sono tanti e possono portare davvero il progetto in alto. Abbiamo visto anche ultimamente il progetto di Toncoin che ha avuto un hype pazzesco ed era un qualcosa di molto simile. Infatti tante persone sono andate a riscattare questo token in questo modo e hanno guadagnato dei soldi. Seguendolo magari all'interno di Telegram e all'interno della piattaforma di Twitter. E facendovi un piccolo riassunto ragazzi per quanto riguarda l'airdrop di Dog e anche l'altro airdrop perché alla fine parliamo più o meno della stessa cosa. L'airdrop consiste nell'ottenere questi token gratuitamente semplicemente avviando il loro bot. E Dog non è nient'altro che una meme coin progettata per incarnare lo spirito e la cultura della comunità di Telegram. Ha una storia unica che la rende speciale. La moneta è ispirata a Spotty, la mascotte non ufficiale di VK, un sito di social media online russo. Creata appunto da questa persona durante un'asta di beneficenza. Spotty è rapidamente diventato un simbolo amato e ora Dog mira a portare quell'eredità nel mondo delle criptovalute. Quindi parliamo semplicemente di un progetto di meme coin e poiché abbiamo anche 10 milioni di persone che hanno partecipato all'airdrop. Potrebbe essere comunque interessante finché si parla di una cosa completamente gratuita ragazzi vale la pena farla finché non si investono dei soldi. Quindi io vi consiglio di farlo perché non ci investiamo nulla solamente due click e riceveremo questi token in base a quanto tempo possediamo il nostro account Telegram. E poi potenzialmente potremmo ricevere dei token che potrebbero valere qualcosa. Ovviamente mi raccomando non investiteci soldi fatelo in modo completamente gratuito. Stessa identica cosa anche per quanto riguarda l'airdrop di Kat. È un airdrop su Telegram, un progetto di meme coin che potrebbe essere interessante proprio come è accaduto a Toncoin che ha avuto un bel rialzo. Non ho trovato altre informazioni a riguardo per il momento ci sono tantissimi canali YouTube in America che ne stanno parlando e per questo se volete prendere questo airdrop fatelo. Quindi questo è quanto ragazzi vi lascio tutti i link in descrizione vi lascio anche il link in descrizione dello sponsor di questo video. Andategli a dare un'occhiata perché è un'applicazione davvero molto molto interessante per poter spendere le proprie cripto con una carta prepagata su Google Pay oppure Apple Pay. Abbiamo a disposizione anche il nostro IBAN per poter andare ad effettuare dei bonifici. In più possiamo andare a guadagnare una rendita passiva attraverso lo staking. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!